Ieri pomeriggio si è tenuta una manifestazione in Dragon Bot, la Coppa Marco Polo, sempre nell'ambito della regata storica. Una sfida tra la squadra delle università veneziane e la squadra della città gemellata di Suzu in Cina. Le barche Small Dragon Bot da 10 posti sono state utilizzate da equipaggi misti su una distanza di 200 metri con arrivo a Ca' Foscari. La manifestazione celebra il settecentesimo anniversario della morte di Marco Polo. Intervenuti il consigliere delegato alla tutela delle tradizioni, la rettrice di Ca' Foscari e l'onorevole Fincato. Gli equipaggi si sono sfidati con grinta ed entrambi i dragoni domenica parteciperanno al corteo sportivo della regata storica in Canal Grande. Il consigliere delegato Giovanni Giusto ha sottolineato il gemellaggio con la città di Suzu unita a Venezia ad antichi legami dovuti alla storia di scambi commerciali e culturali che in questa occasione diventano rilevanti. Prima della manifestazione sono stati dipinti gli occhi dell'equipaggi in gara, un momento tradizionale che vuole richiamare il risveglio del drago, preludio di un periodo favorevole. L'incontro molto combattuto ha visto vincente l'equipaggio veneziano. Entrambi gli equipaggi hanno ricevuto in dono la maglietta della Coppa Marco Polo da indossare durante la regata storica. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!